Ciao, sono Rebecca e sono al secondo anno della laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, curriculum traduzione giuridica ed economica presso l'Università degli Studi dell'Insubria. E attualmente mi trovo qua in Spagna, più precisamente nella città di Siviglia, perché grazie all'Insubria e grazie al mio corso di laurea ho avuto l'opportunità di partecipare al progetto di doppio titolo con il Master in Traduzione e Interculturalidad presso l'Università di Siviglia. E ritengo che questa sia un'opportunità veramente importante per chi ha scelto come me un percorso improntato sulle lingue e sull'internazionalità, che grazie all'Università dell'Insubria ho potuto cogliere.